Ciao a tutti, io sono Maria Cristiene, sono una laureata in matematica, poiché mi piaceva programmare, chiesino a Tessi che potesse esaudire questo mio desiderio. A quei tempi il professor Giovanni Cocco, che fu tra i fondatori dell'Associazione Italiana di Cristallografia e organizzatore del primo congresso di cristallografia, era direttore sia dell'Istituto di Mineralogia che del Centro di Calcolo della Università degli Studi di Perugia. Vi ricordo che a quei tempi non esistevano i personal computers, nessuno mi scriva mia. Il professor Cocco aveva conosciuto un giovane promettente fisico di nome Carmelo Giacovazzo, che stava sviluppando una nuova teoria, chiamata teoria delle rappresentazioni, basata sui metodi diretti. I quali metodi diretti sono metodi matematico-statistici che hanno come scopo quello di risolvere il problema della fase. Come voi sapete, ad esempio da un esperimento di diffrazione alla GX, noi ricaviamo il modulo del fattore di struttura, che ricorda un numero complesso, il fattore di struttura è un numero complesso, ma perdiamo qualsiasi informazione sulla fase. Il professor Giacovazzo stava cercando persone in grado di programmare al fine di sviluppare un software basato sulla sua nuova teoria. Questo software si sarebbe chiamato SIL e l'acronimo SIL sta appunto per Semi-Invariant Representation. Il professor Cocco invitò due persone del suo staff a contattare Carmelo. Antonio Nunzi e Gianpiero Polidori accettarono l'invito e così iniziò la collaborazione del gruppo di Perugia con Carmelo. Io chiesi la tesi a Nunzi e entrando così in un campo per me pieno di incollite, tanto per fare un esempio non sapevo cosa fosse un fattore di struttura. L'iniziale gruppo SIL comprendeva ricercatori sia italiani che stranieri. In modo particolare voglio ricordare con particolare emozione Davide Viterbo, Bernard Busetta, Giovanni Luca Cascarano, allora laureando di Carmelo Bari e poco dopo entrarono nel gruppo Riccardo Spagna e Mercedes Camalli. Il gruppo si estese poi a tutti gli appartenenti dell'istituto CNR IRMEC che è poi diventato l'attuale istituto di cristallografia ICI. All'interno di questo meca gruppo si crearono dei sottogruppi di ricercatori. Alcuni si occuparono della risoluzione del problema della fase, nel caso di inflazione della raggi X a cristallo per piccole molecole. Altri si occuparono del campo delle polvere cristalline. Altri si occuparono della cristallografia macromolecolare. La mia tesi riguardò la stima degli invarianti a cinque fasi in primo e in uno. Perché in primo e in uno? Perché allora la teoria era talquanto complessa e diciamo troppo complessa per affrontare gruppi spaziali a più alta simmetria. L'unico target del mio ingresso del gruppo SIR era appunto quello di risolvere il problema della fase nel caso di monocristalli piccole molecole. Possiamo dire che il SIR ha costituito un ruolo fondamentale nella risoluzione appunto del problema della fase per piccole e medie molecole. Grazie. 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 Grazie a tutti.